Destro in apertura di ripresa finisce a terra e l'arbitro concede il rigore trasformato da casa grande. Lo spettro della rimonta torna ad affacciarsi in casa... ...grande... Lo spettro della rimonta torna ad affacciarsi in casa... ...Giuventina anche... Un tiro da lontano di un giocatore che non aspettavamo, che lui è un marcatore, capito? Non è... È chiaro che lui ha avuto merito, ha tirato molto bene, Brio, no? Però aspettavamo, per esempio, un tiro così, di un giocatore che è abituato a tirare, per esempio, di Agostini... ...di un giocatore che tirano di lontano. Quando abbiamo visto la pala arrebaçata a lui, pensava... ...a meno io, pensava, va provare un escambio per entrare in area, per provare di testa... ...a lui è tirata, fa so...